Parti! Poi! 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 Poi scattare! Più! Via! Via! Oh, via! Dabbi... Roberto! Ma sono soldi! No, finchia il porco cristo. Vai! Non mi piace! Non mi sono male Mi è caduta il libro? Mi piace Il Consiglio via 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 vabbè lo registro no 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 sei partito si era inceppato ma non capivo che La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica Quando dici tu io già sto registrando Già da ora? La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica Tutele il paesaggio e il patrimonio storico Quando vuoi? Aspetta lo schermo, bastardo Allora La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica Tutele il paesaggio e il patrimonio storico e l'artistico della nazione A voi la linea Ma io devo parlare tranquillo dopo che mi hanno arrestato Ma questo è un primo piano la cosa a parte, comunque sto registrando Ah si? E tu perché ho messo? La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica E tutela il patrimonio storico e l'artistico della nazione Da voi la linea Quando vuoi? La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica E tutela il paesaggio e il patrimonio storico e l'artistico della nazione